Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video spacchettamento campagna numero 12 di Faberlic Allora è arrivato oggi il pacco e quindi vi voglio mostrare subito tutto ciò che è arrivato Allora la prima cosa che vi mostro è lo scontrino E poi sono arrivati i parecchi cataloghi della campagna numero 13 Questa è la copertina Poi vi farò un video dove vi mostrerò tutte le novità, tutti i prodotti di questa campagna Allora iniziamo subito a mostrarvi le cose che sono arrivate Allora è arrivata questa crema per la pulizia delle superfici metalliche Questa crema è fantastica, pulisce proprio benissimo tutti i prodotti in acciaio E appunto tutte le superfici metalliche è perfetta Inoltre anche oltre a fare questo lavelli da cucina, teglia in acciaio, posate Quindi le pentole Anche è ottima pure per la ruggine Se ci sono delle macchie di ruggine con questo prodotto va via Questo è un prodotto consigliatissimo Come lo è anche questo prodotto che sarebbe un detergente per stufe e forni Questo è ottimo per pulire i forni, le griglie E' veramente spettacolare questo prodotto Di ottima qualità, ne basta pochissimo come tutti i prodotti di Faberli che sono tutti super concentrati Questo è 500 ml di prodotto ma ne basta appunto pochissimo E poi è arrivato un altro detergente Questo è detergente per il bagno universale per pulire tutti i sanitari E questo è anticalcare Anche questo è concentrato 500 ml di prodotto pure questo Ottimo prodotto, io lo sto utilizzando e mi trovo benissimo Poi è arrivato questo che è la spruccia d'acqua per la biancheria Ecco questo qui è per stirare, aiuta a stirare in maniera più veloce Ed è anche comodo da portare con sé tipo in viaggio Perché se magari avete una biancheria che avete riposto nella vostra valigia ed è un pochino stropicciata Basta spruzzare questo prodotto e poi spianare bene E i vostri vestiti ritorneranno perfetti Poi ho ordinato questo gel disinfettante per le mani Antibatterico Questo mi piace moltissimo, infatti ora ne ordinerò altri Ha 70% di alcol Mi piace perché ha la profumazione molto gradevole E poi si assorbe immediatamente sulle mani Si asciuga subito È molto buono E poi costa poco, 1,99 euro E poi è arrivato questo ammorbidente Concentrato per lavaggio di tessuti speciali No, non è ammorbidente Questo è per lavare tessuti delicati Tipo i tessuti Allora, lo leggo da qui I tessuti delicati, la seta, la lana e tutto il resto di altri tessuti appunto super delicati Anche questo è concentrato È anche una buona profumazione Poi questo è delersivo per i piatti Anche questo concentrato, questo è a pompelmo rosso Con questo addirittura si può lavare i sucetti dai bambini Perché è talmente delicato E anche la frutta Potete lavare perfino la buccia della frutta Quindi anche questo qui, uno di questi vale per 3 litri Perché essendo concentrato E quindi si diluisce Oppure si può usare in maniera concentrata ma una piccola quantità E poi è arrivato questo gel per il WC Al profumo di limone Che questo è buono Sbianca benissimo il WC Poi questa maschera mia amata Questa è ordinata per me Della Samon Care Ottima veramente Lascia i capelli super morbidi E' veramente speciale Questa maschera buonissima E poi ha una profumazione gradevole Poi è arrivato questo shampoo della linea botanica E questo qui è adatto specifico per i capelli grassi E questo ha 94% di ingredienti naturali Questa è fra le altre cose Costa pochissimo questo prodotto Poi grazie ai punti Ho ricevuto gratis queste salviette struccanti Queste mi trovo benissimo Sono ottime Della linea Oxology Ne prendo sempre E poi questo detergente Per pulire i vetri Questo è ottimo pure Non lascia l'oni E' arrivato naturalmente insieme al suo spruzzino E' buono anche questo Poi sono arrivato Ho ordinato una nuova linea Della linea La Creme E' arrivato questo gel doccia E questa crema per il corpo Questa allora è Gel e doccia In particolare al miele Quindi lascia la pelle super idratata E' la stessa cosa anche questa crema Questa è specifica per il viso, mani e corpo Tutte e due al miele Poi è arrivato questo turbante Guardate che bello il colore Vediamo Quindi lo apro delicatamente all'interno E' morbidissimo Di una morbidezza pazzesca Quindi quando vi asciugate i capelli Usate questo turbante E poi si chiude col bottoncino Stramorbido Proprio morbido morbido bellissimo questo qua è costato vediamo se lo trovo questo turbante è costato 6,99 euro molto buono molto morbido bello ok poi ho ordinato questo secchio secchio pieghevole per salvare spazio praticamente così ho pochissimo spazio visto che si piega in questo modo eccolo così è da chiuso ecco ora ve lo faccio vedere aperto ecco basta spingere verso fuori e si apre si apre tutto eccolo quasi finito eccolo qui questa parte ancora non si è aperto perfetto ecco il stesso secchio molto carino perfetto lo metto qua da parte e poi è arrivato questo sapone per le mani alla lavanda io sto utilizzando in questo momento il doccia schiuma alla lavanda di questa linea provenziale ed è buonissima la profumazione quindi sarà sicuramente buono anche il sapone per le mani poi sono ridate queste due salviettine allora queste servono queste sono salviettine umidificanti antiodore ok e della linea questi sono della parafarmacia della linea expert parma e questi invece sono salviettine intime pure nella stessa linea parafarmacia expert parma poi una linea per i bimbi eccolo questo è un sapone liquido per le mani per i bambini questo è 200 ml di prodotto e guardate quanto sono bellini fra le altre cose con dei disegni attrattivi appunto per i bambini invece questo qua è uno shampoo gel doccia bello questo vediamo se lo dice che profumazione non me lo ricordo l'avevo letto dal catalogo ma adesso non mi ricordo la profumazione non lo posso aprire perché non sono per me e poi è arrivato una novità che è uscita in questa campagna è un balsamo detergente nella linea Arius eccolo qua questa è una linea giapponese e quindi volevo provare questo prodotto che mi interessava particolarmente questo qui perché perché questo balsamo addirittura si usa al posto dello shampoo è due in uno credo di aver capito che sia così ve ne parlerò più avanti dopo che lo utilizzerò poi sono arrivati questi sono dei cerotti per i piedi ora vi dico esattamente a cosa servono qui lo leggo direttamente dal catalogo aiutano questi cerotti a purificare il corpo dalle tostine dalle scorie migliorano il metabolismo rafforzano le difese immunitarie efficace per reumatismi le dolori articolari e spinali aiutano a ridurre il peso corporeo e migliorano le condizioni della pelle e questo praticamente è la medicina come viene chiamata la medicina orientale ecco questo sistema della medicina orientale mettendo mettendole appunto sulla pianta dei piedi permettono appunto di stimolare 60 punti del vostro corpo e questi sono appunto questi cerotti che hanno questi ingredienti all'interno naturali poi è arrivato questo fondotinta due in uno da una parte c'è la parte bianca che è fatto con l'erogatore a spray la parte è un primer dall'altra parte invece è un fondotinta questa è la colorazione 63 08 quindi questo si chiama color sarebbe se sul beige la colorazione è un pochino più scura rispetto a quella che di solito prendo io questa l'ha ordinato una cliente e poi è arrivato questo prodotto per i capelli eccolo qui della linea expert questo qui serve si mette sulle punte dei capelli li rende morbidi lucidi e li cura cura i capelli perfetto per la nutrizione dei capelli poi un altro prodotto interessante che è arrivato è questo colore per i capelli tinta per i capelli in particolare questa colorazione numero 8 quindi è biondo ecco da qui questa è la linea expert color questa è un'ottima tinta per i capelli poi è arrivato sempre della linea expert farm è arrivato questo colluttorio per denti sensibili poi ho ordinato della linea oxology questo è un siero per il viso questo l'ho ordinato per me il codice è 0241 non so se si vede 0241 l'apro eccolo qui siccome ho preso in questa linea ho preso sia la crema da giorno che da notte e quindi volevo abbinarli anche il siero e quindi lo proverò subito questa è un'ottima linea questa linea oxology perfetto poi ho ordinato sempre per me questo rossetto vediamo un po' com'è allora il rossetto questo è la color terracotta il codice 4736 4736 eccolo questo è il colore sembra bellissimo dal video sembra color fragola vediamo invece come si chiama lo che descrive color terracotta però sembra che vada sul rosa non so se riuscite a vedere bene comunque è un bel colore lo aspettavo un po' più hanno delle tonalità un po' sul marroncino però è bello mi piace lo stesso sono dei colori che io utilizzo sempre poi sono arrivate due matite per sopracciglia una è fatta quella automatica quindi non si deve temperare con il suo pennellino dietro spazzolino per pettinare i capelli pettinino più che spazzolino e questa invece è a matita sempre con il pettinino una matita classica matita da temperare l'altra invece automatica questa costava pochissimo 1,90 euro se non sbaglio poi ho preso sempre per me queste due spugne retine esattamente sono per pulire le parti insomma più richiede insomma più scorso queste sono due di riprendere poi ho preso questa ciotolina completa ciotolina per me sempre adesso la apro vediamo un po' fa rumore la carta scusate il rumore purtroppo è così eccola guardate che bellina è nera con la scritta fabric che è la stessa cosa il suo pennellino e così ce l'ho abbinata alla sua mantella perché ho comprato anche la mantella un po' di tempo fa e così li utilizzo tutti insieme poi sono arrivati due smalti allora vediamo un po' uno è il mio e uno è di una persona che me l'ha ordinato allora vediamo un po' qual è il mio adesso lo dico subito allora è 75 e 66 me l'ha ordinata una persona che sarebbe questo vediamo se si vede il colore perché è quello tutto nero non si vede eccolo bellissimo questo colore ok bellissimo un bel colore vediamo se descrive anche il nome di questo colore ok ciliegia si chiama color ciliegia bellissimo questo è costato 2,99 euro in offerta bellina anche la confezione e l'altro ah per far da caso è uguale questo che per me è identico la stessa colorazione è proprio identico mi sembrava che fosse diverso invece è uguale perfetto questo l'ho preso anche per me color ciliegi è bellissimo non vedo l'ora di utilizzarlo molto elegante questi hanno anche una lunga durata e guardate quanto sono belle le scatole guardate che carina si apre anche all'interno fuori è dorato all'interno è rosso sono molto carine si presentano così bene che si possono fare anche dei regalini poi ecco ordinato queste spugnette che sono in questo momento sono chiuse ma con l'acqua si aprono servono per pulire il viso sono tre spugnette non so se riesce si capisce che sono tre ma forse così ok e poi questa spugna magica questa spugna fatta in gomma che toglie qualunque utile innanzitutto per tutte le superfici e questa in particolare serve per cancellare le macchie dal muro dal plastica da un sacco di cose è utile per tantissime cose spugna quella bianca non so se l'avete presente quella bianca che esiste anche in commercio la vendono una simile e quindi di Faberlic da prodotta cure la voglio provare e poi queste due le ho presi per me perché le ho già preso una di queste queste salviette una confezione e mi sono trovata benissimo sono salviette per la cura degli interni dell'auto e hanno una profumazione buonissima mi piaceva molto la profumazione che hanno e rendono tutto il cruscotto tutta la parte interna dell'auto lucidissima e quindi ne ho presi due perché erano fra le altre cose in offerta poi ho ordinato un po' di campioncini da dare alle clienti che hanno fatto l'ordine questi sono una candeggina in polvere e poi questi sono invece un smacchiatore questi sono due smacchiatore sempre in polvere e invece questo qui è il campioncino del deresivo per il bucato in lavatrice e guardate quanto sono grandi con questi si può fare con questi campioncini si possono fare più lavaggi quindi sono dei campioncini abbastanza grandi da regalare e poi ho ordinato altri campioncini sempre da dare alle clienti di vari prodotti per la casa prodotto per il forno per il bagno per il digestivo per lavare i piatti e poi ho ordinato diversi campioncini di profumi questi invece li sto ordinando quasi tutti penso di con questi di aver quasi finito la collezione dei campioncini di profumi servono per farli vedere per far sentire alle persone appunto la profumazione ho preso un po' quelli sia quelli maschili che quelli femminili che poi li metterò tutti in ordine con i vari nomi in una scatoletta ok credo di avervi fatto vedere tutto sì ho fatto vedere tutto tra qualche giorno invierò un altro ordine e quindi vi farò poi vedere un altro spacchettamento voglio ricordarvi che questa campagna finisce giorno 30 e che chi si iscrive entro giorno 30 riceverà questo set di dedersivi in omaggio che comprendono il dedersivo universale per il bucato un ammorbidente e uno sgrassatore all'ossigeno inoltre per chi invia l'ordine entro 24 ore avrà un ulteriore omaggio un kit di dedersivi in campioncino come quelli che vi ho fatto vedere sono dei campioncini dedersivi ok se volete ulteriori informazioni iscrivetevi sotto e sarò lieta di rispondervi ciao a tutti ci vediamo presto per un altro video ciao ciao